In studio Valentina Frasca. Un resort di lusso del valore di 13 milioni di euro è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Siracusa dopo che i militari hanno scoperto una truffa sul super bonus 110%. Sotto la lente dei finanzieri due contratti di compravendita immobiliari stipulati in qualità di acquirenti da una coppia di coniugi iscritti nel registro degli indagati. I contratti risalenti al 2020 e al 2021 avevano come oggetto in entrambi i casi un fabbricato e stato di abbandono e l'annesso terreno agricolo. Subito dopo il rogito è stata registrata la nagrafe tributaria alla costituzione di due condomini con sede nella provincia di Siracusa e Ragusa di cui la moglie risultava essere rappresentante. Dopo aver ottenuto le autorizzazioni sono stati avviati i lavori di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione degli immobili al fine di trasformarli in strutture residenziali. A fronte dei costi sostenuti i condomini avevano avanzato le richieste per il beneficio fiscale del super bonus ottenendo il riconoscimento. Ma dall'indagine è emerso che prima della stipula dei due rogiti i coniugi avevano proceduto senza averne ancora titolo e con l'ausilio di alcuni professionisti compiacenti a frazionamento catastale dei due fabbricati attraverso la costituzione di 118 nuovi subalterni rispetto ai quattro originari con la finalità di ottenere un beneficio fiscale di gran lunga maggiore rispetto all'importo spettante. Subito dopo l'avvio dei lavori, in particolare, uno dei due fabbricati era già comparso su alcune piattaforme social che pubblicizzavano la reale natura del frazionamento, quello di realizzare un resort di lusso, composto da appartamenti, un grande albergo, un'area multifunzionale, un ristorante e un centro benessere. Sequestrato il complesso immobiliare del valore di oltre 8 milioni di euro, crediti fiscali già concessi per 1,3 milioni di euro e ulteriori 3 milioni e mezzo ancora in fase di riconoscimento, pronti per essere utilizzati in compensazione delle imposte dovute generando un ingente danno all'erario. E' stato rinchiuso nel carcere di Trapani il nigeriano di 26 anni arrestato dai carabinieri per l'aggressione ad una connazionale incinta che stava accompagnando il figlio all'asilo. L'uomo ha anche provato a sottrarle il bambino. Ha aggredito una donna connazionale in stato di gravidanza che stava accompagnando il figlio all'asilo, la scuola dell'infanzia Don Bosco a Trapani e ha provato a portarglielo via. Le persone che hanno assistito alla scena hanno subito allertato i carabinieri che hanno arrestato poco dopo un nigeriano di 26 anni per tentato sequestro di persona, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. Quando i militari sono arrivati sul posto l'aggressione era ancora in corso e l'uomo è stato colto sul fatto e bloccato. All'interno del suo zaino c'erano un'ascia ed un coltello con una lama di 30 centimetri che sono stati sequestrati. La donna è stata affidata alle cure dei sanitari. Sottoposto a rito direttissimo per il 26enne è stata disposta la custodia cautelare nel carcere di Trapani. I carabinieri di Pachino invece hanno arrestato un 23enne per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e minacce. A Brolo nel Messinese un 47enne è stato arrestato ed era già stato condannato tra l'altro per maltrattamenti commessi dal 2019 al 2021 nei confronti dell'ex moglie. Calci, pugni, omiliazioni alla convivente sono le accuse di cui dovrà rispondere un 23enne arrestato dai carabinieri di Pachino per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e minacce. L'uomo avrebbe ingiuriato sistematicamente la convivente minacciando la donna e picchiandola fino a procurarle lesioni. A seguito della denuncia della donna sono state avviate le indagini coordinate dalla procura di Siracusa dalle quali sono emersi diversi episodi di maltrattamenti anche precedenti e mai denunciati. L'uomo è stato posto ai domiciliari con braccialetto elettronico. Nella serata di lunedì scorso a Brolo, nel Messinese, i carabinieri hanno arrestato un 47enne condannato a tre anni e sei mesi di reclusione per maltrattamenti commessi dal 2019 fino al 2021 nei confronti della loro moglie convivente e della loro figlia che all'epoca dei fatti era minorenne. La procura richiese d'otterne dal GIP del Tribunale di Patti la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare poi revocata nel marzo 2022. Ricevuto l'ordine per la carcerazione, l'uomo è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto. Intanto, nell'ambito delle misure a tutele e a sostegno delle donne vittime di violenza, via libera della garante privacy allo schema di decreto del Ministro della Salute che tiene conto delle osservazioni formulate dall'autorità nel corso delle interlocuzioni con il Ministero, in particolare l'anonimato delle donne vittime di violenza e di quelle che chiedono di partorire in anonimato. Al via nell'aula bunker di Palermo, la nuova udienza con rito ordinario del processo per il duplice omicidio di Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, uccisi il 5 agosto del 1989 a Villa Grazia di Carini. Si tratta della prima udienza dopo la morte di Vincenzo Agostino, il padre di Nino, che è deceduto il 21 aprile. Sul banco degli imputati ci sono il boss dell'acqua santa Gaetano Scotto e il sedicente, amico di infanzia di Nino, Francesco Paolo Rizzuto. Nuova udienza del processo per il duplice omicidio di Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, uccisi dalla mafia il 5 agosto del 1989 a Villa Grazia di Carini. Nell'aula bunker di Palermo, la prima udienza con rito ordinario dopo la scomparsa avvenuta il 21 aprile di Vincenzo Agostino, il padre della vittima che dal giorno dell'omicidio non aveva mai tagliato la barba, lottando per la ricerca della verità dell'assassinio di suo figlio e della nuora in stato di gravidanza, denunciando i tentativi di depistaggio. Nell'ottobre scorso la Corte d'Appello ha confermato l'ergastolo per il boss di Resuttana, Nino Madonia. Sul banco degli imputati, oggi il boss dell'acqua santa Gaetano Scotto e il sedicente, amico di infanzia di Nino, Francesco Paolo Rizzuto, rispettivamente accusati di duplice omicidio aggravato in concorso e di favoreggiamento aggravato. Ad intervenire l'avvocato Giuseppe D'Acqui, legale di Scotto. Nella scorsa udienza è intervenuto l'avvocato Salvatore Di Gioia, legale di Rizzuto, che nella ringa difensiva aveva chiesto alla Corte di ritenere prescritto il reato per cui è accusato il suo assistito. All'epoca del duplice omicidio, Rizzuto aveva 16 anni, conosceva bene Nino. La notte prima dell'esecuzione avevano trascorso la serata a Pescare, per poi pernottare in casa della gente. Rizzuto, quel 5 agosto, chiese con insistenza ai familiari di Agostino, ma quando arriva Nino, per poi allontanarsi all'improvviso, è recarsi in casa dello zio acquisito, come si è definito in aula, Antonino Castiglione, nel corso del processo. In aula oggi erano presenti le figlie di Agostino, Nunzia e Flora, per la prima volta senza il padre, e Nino Morana, figlio di Flora Agostino, che negli ultimi anni è sempre stato accanto al nonno. La divisione di polizia anticrimine di Caltanissetta ha eseguito il decreto di confisca di beni per un valore di circa 500 mila euro nei confronti di un boss della mafia gelese. Entrano nel patrimonio dello Stato 27 beni, tra cui un'impresa di allevamento e l'intero complesso aziendale, costituito anche da numerosi mezzi agricoli. 19 beni immobili e 4 rapporti finanziari. Il titolare dei beni, componente del clan Emanuello, è stato condannato a 8 anni per mafia. Panico sull'autostrada Catania, Siracusa. Alcuni automobilisti hanno segnalato alla polizia che da un'auto di grossa cilindrata una persona stava sparando dei colpi di pistola all'interno della galleria San Demetrio. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Lentini che, attraverso il numero di targa, sono arrivati ad individuare un giovane di 22 anni che da qualche tempo aveva acquistato una pistola a salve. Il giovane, mentre si trovava in auto con un amico, non considerando la gravità e la pericolosità del suo gesto, avrebbe sparato per gioco. Adesso è stato denunciato. L'emergenza si cita in Sicilia. Sono molti comuni in cui manca l'acqua e i disagi sono sia nelle abitazioni che nelle campagne con gli agricoltori che devono scegliere quali culture privilegiare perché non ci sono risorse idriche sufficienti per tutte le piante. Non ci sono buone notizie per l'emergenza si cita in Sicilia. Molti comuni in cui manca l'acqua. A Denne e provincia siamo al quinto giorno senza acqua a causa di guasti tra Troina ed Agira. L'erogazione era stata interrotta lunedì scorso. Con una comunicazione Sicilacqua ha annunciato l'interruzione per due giorni, protrattasi poi per altri due. Ieri la notizia è che l'acqua nel capoluogo sarebbe stata ripristinata alle 22. Ma questa mattina i rubinetti sono ancora asciutti. Il problema coinvolge anche Caltanissetta e alcuni comuni del Nisseno. Questa mattina nuovo vertice in prefettura Caltanissetta per fare il punto della situazione in tutta la provincia. La carenza di acqua è un dramma che sta mettendo in ginocchio non solo le città ma anche le campagne. Gli agricoltori dovranno scegliere quali colture privilegiare perché non c'è la disponibilità necessaria di acqua per tutte le piante. Succede ad Agrigento dove Baldassarre e Giarraputo, commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Agrigento 3, ribadisce la gravità della situazione. E questo malgrado l'acqua del lago arancio a cui afferiscono gli agricoltori del Belice, sia tornata ad essere disponibile dopo una lunga inutilizzabilità causata dalla presenza sui fondali dell'alga rossa. Le ultime analisi hanno dato un esito favorevole. Al momento, aggiunge Giarraputo, su quel bacino sono invasati 16 milioni e mezzo di metri cubi di acqua. Normalmente il fabbisogno per gli agricoltori è di 20 milioni di metri cubi. Ma quest'anno bisognerà rinunciare al travaso di acqua normalmente proveniente dalla Diga Garcia perché quella risorsa è già stata destinata dalla cabina di regia sulla siccità esclusivamente agli usi civili. Giarraputo annuncia che nei prossimi giorni incontrerà le organizzazioni sindacali per programmare la campagna in rigua pur in presenza di una prospettiva tutt'altro che incoraggiante a rischio soprattutto le colture ortive che hanno bisogno di molta più acqua delle altre piante. Ed arrivano le prime notizie dalle vertice in prefettura a Caltanissetta di questa mattina. Caltacqua, riporta una nota del sindaco di Gela Lucio Greco, ha comunicato di aver recuperato in tutto il territorio circa 70 litri al secondo con alcuni interventi a breve e medio termine. Circa 3 milioni di finanziamento saranno utilizzati per sfruttare le sorgenti, ovvero 25 litri al secondo per realizzare condotte e altri 25 per potenziare il flusso dai pozzi di Pantarelli. Dalla prefettura conclude la nota è arrivato l'invito affinché i comuni sensibilizzino la popolazione ad essere parsimoniosa con l'uso dell'acqua. E rimaniamo ancora in tema, convocare un tavolo di confronto per affrontare l'emergenza idrica nella piana di Catania e la richiesta di CIA Sicilia orientale. È fuor di dubbio che i cambiamenti climatici abbiano influito sulla difficile situazione agricola. Ma le colpe sono solo delle temperature elevate e delle scarse piogge? Forse l'attenzione va spostata anche su chi poteva intervenire e non lo ha fatto. Come la politica che ad esempio non ha portato avanti alcune riforme, beh di quella dei consorsi di bonifica, o non è intervenuta per prevenire. E adesso si ritrova a curare qualcosa che è difficile da curare, così come tra l'altro fa notare proprio la CIA Sicilia orientale. Almeno 30 anni parliamo che i consorsi di bonifica non sono riusciti a darci una mano, a risolversi, a fare un piano strategico proprio di rinnovamento di questi consorsi di bonifica. L'acqua ci può essere ma non può essere utilizzata. L'agricoltore paga l'acqua che non ha, più paga poi l'acqua dei privati perché in qualche modo deve annaffiare le proprie colture. C'è una doppia spesa e quindi l'agricoltore non può più affrontare queste spese. Chiede che ci sia questo tavolo tecnico per risolvere questi problemi e al governo di venirgli incontro chiedendo un ristoro in questo senso, quantomeno magari di bloccare questo pagamento delle bollette. Si può puntare il dito contro qualcuno? Possiamo soltanto dire che la politica si è fatta sempre da parte e quindi che la politica oggi entri in questo tavolo tecnico a fare il suo ruolo, a fare quello che è necessario. Si prenda le sue responsabilità e ci venga incontro a tutti gli agricoltori. Ed è la CIA Sicilia Orientale che chiede l'intervento della prefetta di Catania Maria Carmela Librizi affinché possa promuovere un tavolo di confronto affinché tra le altre cose si possa imprimere una velocizzazione nei lavori e negli interventi individuati o da individuare per trovare le risorse idriche che mancano ed evitare lo sperpero di acqua dove c'è. Perché chiediamo il tavolo tecnico? Perché vogliamo il confronto diretto con la cabina di regia affinché possiamo risolvere insieme questi problemi che ci sono. Se non facciamo delle scelte condivise ed ecco perché chiediamo un tavolo tecnico alla cabina di regia non otteniamo i risultati. In ginocchio siamo e veniamo ancora più abbassati. Quanta acqua si perde? Troppa. Quello che serve necessariamente con questo clima che è cambiato è che il governo ci dia una mano. L'agricoltore non può essere lasciato così alla deriva. Cambiamo argomento e andiamo a Pozzallo dove rimane in vigore l'ordinanza di sgombero degli inquilini dei lotti 12, 13 e 14 di Piazzale Italia dichiarati a rischio crollo. Si tratta degli edifici di edilizia popolare nei quali nei giorni scorsi è stato eseguito un sopralluogo del professore Fabio Neri dell'Università di Catania e la sua relazione è attesa entro la fine del mese. Nel frattempo però gli inquilini devono lasciare le abitazioni. La vita di 48 famiglie rimane in sospesa e dipende dal contenuto della relazione del professore Fabio Neri dell'Università di Catania ricercatore di tecnica delle costruzioni nominato dall'Istituto Autonomo Case Popolari che dovrà sostenere le spese dell'incarico. Un mese circa per depositare le conclusioni di un sopralluogo avvenuto qualche giorno fa il primo ufficiale dall'emanazione dell'ordinanza di sgombero delle tre palazzine di edilizia popolare dei lotti 12, 13 e 14 di Piazzale Italia a Pozzallo. Nel frattempo le famiglie sono costrette a lasciare le abitazioni in virtù della conclusione dei vigili del fuoco protezione civile e genocivile e sulla base di un sopralluogo del 2009 la cui tesi non convince nemmeno il capo della protezione civile regionale Salvo Cocina. Un altro comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica si è tenuto ieri pomeriggio in prefettura Ragusa durante il quale in videocollegamento c'era il professore Neri dal quale si attende la relazione ufficiale. E invece è arrivata qualche giorno fa sul tavolo del sindaco di Pozzallo Roberto Amatuna la posizione del capo della protezione civile regionale Salvo Cocina sull'ordine di sgombero il quale ha scritto che è necessario compiere almeno un sopralluogo di accertamento sulle strutture anche per rilevare eventuali quadri fessurativi altri indizi di dissesto in atto. Il capo della protezione civile ha anche sottolineato che è rilevante osservare che la relazione collegiale di sintesi redatta il 24 aprile dai competenti enti statali e ragionali richiamata dal prefetto di Ragusa non contiene elementi tecnici nuovi né nuove valutazioni rispetto a quanto emerso dai precedenti accertamenti compiuti nel 2009 né un'attestazione di inagibilità degli immobili piuttosto dalle risultanze dello studio condotto dall'ingegnere Giovanni Anfuso nel 2009 sulla base di attendibili calcolazioni è emerso tra l'altro che pur essendo i limiti di sicurezza scontrati nel complesso strutturale esaminato inferiori a quelli minimi previsti dalla norma vigente tale valore permette di affermare che nelle condizioni di normale esercizio non ricorrono gli estremi però sgombro dei edifici la relazione del prof neri sarà quella che definirà il procedimento e nel frattempo le famiglie non ci pensano proprio ad abbandonare le loro case infrastrutture trasporti e opere incompiute la Sicilia si conferma tra le regioni messe peggio in Italia è un quadro desolante della Sicilia quello tracciato da conflavoro analizzando i dati del libro bianco di Union Trasporti e Union Camere nell'isola ci sono circa 140 opere infrastrutturali incompiute o il cui termine contrattuale per l'ultima azione è stato superato si tratta di oltre il 30% del dato complessivo nazionale e di un dispendio di risorse che supererebbe i 400 milioni di euro siamo impegnati con le istituzioni nazionali e regionali dice il vice presidente nazionale e presidente regionale di conflavoro Giuseppe Pullara a sollecitare l'adeguamento dell'intero sistema infrastrutturale siciliano dei 14.700 chilometri di rete stradale siciliana solo il 5% rientra nella categoria autostrada e il 27% rientra nella cosiddetta rete di rilevanza nazionale di gestione ANAS la rete ferroviaria è elettrificata al 58% e di 1.396 chilometri solo il 16% procede su doppio binario per quanto riguarda l'età media dei treni siciliani il 55% ha 19 anni contro la media nazionale di 15,4 le reti ferroviarie di Ragusa e Trapani sono tra le peggiori in Italia rispettivamente al 102 e al 94 posto le infrastrutture stradali costituiscono la categoria più debole insieme alle ferrovie in Sicilia non esistono autostrade a tre corsie oppure le autostrade non esistono affatto e la provincia di Agrigento secondo questo report ad avere le peggiori infrastrutture stradali in Sicilia con un 99esimo posto complessivo e a proposito di trasporti per quanto riguarda i collegamenti con le isole e olie c'è un botta e risposta in corso tra Federalberghi e la compagnia Liberty Lines botta e risposta tra Federalberghi isole e olie e la compagnia Liberty Lines in merito a quanto accaduto durante il ponte del primo maggio con corse cancellate altre rimodulate e turisti costretti a raggiungere la terraferma in gommone premesso che la nostra compagnia non ha alcun vantaggio economico nell'omissione delle corse ma anzi ne subisce un danno visto che le corse non effettuate non vengono retribuite si legge in una nota della Liberty Lines ricordiamo che è il comandante della nave a valutare la fattibilità del viaggio per garantire la totale sicurezza dei passeggeri e del mezzo tra il 30 aprile e il primo maggio nel quadrante delle eolie abbiamo trasportato circa 11.000 passeggeri garantendo 47 partenze nonostante le condizioni del meteo non favorevoli le partenze annullate sono state tre è evidente come numeri alla mano la notizia non abbia fondamento e scoraggi i turisti a programmare le prossime vacanze sulle magnifiche isole eolie immediata la replica del presidente Cristian Del Bono che evidenzia la compagnia anziché scusarsi per i disservizi arrecati all'utenza in modo involontario preferisce evidenziare questioni da noi non sollevate avremmo voluto che la compagnia avesse utilizzato a parziale giustificazione la necessità di effettuare urgenti manutenzioni sugli scali eoliani dai dragaggi alla sostituzione dei respingimenti fino al ripristino di alcune bitte per cui visto che non lo fa la compagnia cogliamo noi l'occasione per chiedere all'assessore regionale Aricò di porre l'attenzione sulle urgenze di manutenzione ordinaria e straordinaria degli attracchi eoliani oltre a ricordargli che le isole di Sicilia su tutte le tratte statali stanno ancora patendo una riduzione delle corse e un aumento tariffario di circa il 53% A tra poco per la seconda parte di MTG Rieccoci in studio per la seconda parte di MTG e parliamo della vicenda dell'ex Bluetech di Termini Imerese interviene adesso sulla questione il presidente del distretto produttivo della Meccatronica Antonello Mineo Siamo pronti a mettere a disposizione il know-how progettuale che abbiamo maturato sulle tematiche ex Fiat e disponibili a creare interlocuzioni con diverse aziende che stanno collaborando con noi tra cui alcune multinazionali interessate a investire a Termini Imerese a supporto del gruppo Pelligra che si è aggiudicato lo stabilimento ex Bluetech per la reindustrializzazione dell'area Sono le dichiarazioni rilasciate dal presidente del distretto produttivo della Meccatronica Antonello Mineo dopo il susseguirsi di notizie ieri relative alla presentazione di un ricorso al TAR del Lazio che potrebbe rallentare il percorso di rinascita dello stabilimento e l'auspicata stabilità lavorativa dei dipendenti Il distretto Meccatronica promosso e riconosciuto dalla regione si estende su tutto il territorio della Sicilia e abbraccia 148 aziende e consorsi di quasi tutte le province e il presidente Mineo si dice soddisfatto delle rassicurazioni dell'assessore regionale alle attività produttive Edita Maio sulla disponibilità del governo Schifani a continuare a lavorare per lo sviluppo del comprensorio industriale di Termini Il Polo Meccatronica fin dal suo insediamento a Termini ha contribuito a riaccendere i riflettori sull'ex Fiat proponendo il progetto di reindustrializzazione per la produzione di profilati in alluminio ricorda Mineo Alla luce di ciò proponiamo l'apertura di un tavolo di concertazione con la regione per mettere a disposizione il nostro portafoglio progetti per creare le condizioni immediate per il rilancio dell'area industriale La regione siciliana ha rinnovato l'accordo per i poli universitari penitenziari per il triennio 2024-2027 Rinnovato l'accordo tra la regione siciliana e gli atenei regionali per la realizzazione dei poli universitari penitenziari nell'isola per il triennio 2024-2027 Istituiti negli atenei regionali già nel 2021 questi centri hanno l'obiettivo di garantire un percorso di istruzione e formazione ai detenuti e agli internati che vogliono conseguire un titolo universitario favorendone la riabilitazione psicosociale con ricadute positive nell'affrontare il percorso di recupero a sottoscrivere l'intese il presidente della regione l'assessore all'istruzione il garante regionale dei diritti dei detenuti il provveditore dell'amministrazione penitenziaria in Sicilia i rettori delle università di Palermo Catania e Messina sarà perfezionata successivamente l'adesione all'accordo anche da parte dell'Accore di Enna una conferma da parte degli enti coinvolti dell'importanza delle attività svolte dei poli che come documentato dalle relazioni prodotte dalle università a conclusione del primo triennio ha permesso a numerosi detenuti in espiazione di pena in Sicilia di intraprendere un percorso di studi universitari per l'anno accademico 2023-2024 risultano 118 gli iscritti ai corsi di laurea i sottoscrittori dell'intesa si impegnano a favorire accordi con altri enti e istituzioni presenti sul territorio comprese le associazioni di volontariato e del terzo settore che già operano negli istituti penitenziari ma anche a favorire l'adesione all'accordo di altri enti universitari per gli studi superiori che operano nel territorio regionale si legge in una nota i destinatari delle attività formative sono i detenuti gli internati e i soggetti in esecuzione penale in Sicilia che in possesso dei requisiti previsti dalla legge intendano immatricolarsi ossia in iscritti a corsi universitari le attività avranno prioritariamente luogo nelle sedi individuate dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria d'intesa con gli Atenei con il fine di coordinare le attività didattiche e di dare riconoscimento all'impegno profuso dei singoli operatori ossia docenti tecnici personale amministrativo tutor e studenti oggi è il 3 maggio e si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione la stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censura recita così l'articolo 21 della Costituzione che sancisce la libertà di stampa in un paese dell'Italia che però si piazza al 46esimo posto su 180 secondo reporter senza frontiere che ha stilato la classifica globale dei paesi in cui l'attività giornalistica è sottoposta a limitazione o censure questo calo è stato influenzato principalmente dal fatto che il deputato leghista Antonio Angelucci sta cercando di acquisire la seconda più grande agenzia di stampa oggi un report pubblicato oggi 3 maggio nel giorno in cui si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa l'indice mondiale rivela che la libertà in tutto il mondo è minacciata proprio da coloro che dovrebbero esserne i garanti le autorità politiche la guerra in Medo Oriente ha anche contribuito a questo declino con un numero record di violazioni contro i giornalisti la classifica sulla libertà di stampa vede i paesi scandinavi in testa la Norvegia è a primo posto seguita da Danimarca e Svezia questi paesi sono membri dell'Unione Europea che ha adottato la sua prima legge sulla libertà dei media la Media Freedom Act il Parlamento Europeo ha lanciato l'invito a presentare le proposte per il premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo un riconoscimento annuale per il giornalismo d'eccellenza che promuove e difende i principi e i valori fondamentali dell'Unione Europea quali dignità umana libertà democrazia uguaglianza stato di diritto e diritti umani anche Papa Francesco è intervenuto sulla piattaforma X di Twitter scrivendo la libertà di stampa è fondamentale per sviluppare un assennato senso critico e per imparare a distinguere la verità dalla menzogna e a lavorare in maniera non ideologica per la giustizia la pace e il rispetto del creato è tutto pronto per un'estate modicana all'insegna della cultura dell'arte e della musica nomi importanti arriveranno in città e a Marina di Modica tra gli eventi di maggiore spicco la mostra Andy Warhol and Pop Friends organizzata dalla fondazione Teatro Garibaldi ospitata dal 15 giugno al 13 ottobre all'ex convento del Carmine per quanto riguarda la musica tra i nomi spiccano quelli di Carmen Consoli Edoardo Bennato e Billy Cobham la nuova stagione di in teatro aperto della fondazione Teatro Garibaldi di Modica è stata presentata in conferenza stampa e ha il patrocinio del comune di Modica e il sostegno della regione siciliana e dell'Ars un approfondimento tra pochissimo nella rubrica eventi subito dopo questo TG e io mi fermo qui l'informazione torna alle 20 e 30 grazie per la vostra attenzione buona giornata grazie per la visione